E questo è da parte nostra. No. Ma dai. Ma che cos'è? Spero ti piaccia. Un cetriolo. Non me l'aspettavo proprio. Ero indeciso sulla taglia. Oh, se è piccolo o dovesse entrarti male, lo posso cambiare? No, ma credo che mi entri. Lo vado subito a provare. Entra a pennello!